Bentornati sopravvissuti e sopravvissute su ARK survival devolved, sesto episodio dopo l'aver addomesticato il nostro buon geppetto, il nostro stegosauro, a cui non ho ancora messo la sella ma dettagli, poco ci importa adesso, perché adesso andremo a fare una puntata di ricerca, di esplorazione. Di là abbiamo visto che c'è il nostro buon spinosauro e lasciamolo là per il momento che non mi sembra il caso di andare a far incazzarlo. E di là ci sono i raptor, io sto pensando di prendere questa zona e attraversarla e andare a scoprire cosa c'è. Per far ciò lascerò giù, no, vi porto dietro le piccozze di metallo e tutto il resto, perché tanto ho qua scorte a casa ancora per poter creare altra roba. Ho lasciato giù le, come si chiamano, le frecce narcotiche, che sa mai che se le perdo dopo vi incazzo tantissimo. E quindi vandiamo le ciance, dovete andare a fare una esplorazione. Ah, una cosa, come sempre mi invito a seguirci sui nostri social e a supportarci con un mi piace e condividendo il canale, grazie. Detto ciò, qua c'è un pertugio che si insinua nella nostra forestina. Vabbè, lasciamolo dire il Fosaro, lasciamolo là, chi se ne frega. Quindi direi di seguire la strada, tra virgolette, e vedere dove ci porta. Non ho bevuto in tutto ciò, ma niente. Mmm, si apre di giacqua. Eeeh. Ok. Non voglio più andare di là. Eh, ma che cacchio, che casino che c'è da quella parte. Io me ne sto molto bene da questa parte. Cioè, ma anche se volessi, se volessi prendere il Carnotauro. Il problema è il terzino di là, ok. Ma, donna, il Triceratopo mi ha spaventato tantissimo. Ma quelli sono Raptor, però. Quelli sono Raptor. E che diamine. Che situazione brutta in cui mi sono infilato. In cui mi sono infilato. E niente. Retromarcia. Allora, facciamo una cosa più intelligente. Cioè, mi sono infilato in un'isola dove dall'altra parte c'è un sacco di gente, di animali che vorrebbero uccidermi. Riprendiamo la mappa. Allora, io sono partito da qua. Vorrei fare passe a ritroso da dove sono partito nel primo episodio. E vedere cosa mi regala l'esplorazione da quella parte. Vediamo. Comunque, allora, da una parte è buono che siamo andati a esplorare di là per il semplice fatto che so che di là c'è un Carnot. che potrebbe essere il nostro prossimo animale da domesticare. Un sacco di succo potrebbe essere un problema. Però noi il sacco di succo non gli facciamo niente. Ok. Cosa mi regala il mare? Allora, qua è il mare. Uh, che profondo che è lì. Tartarughe. I Lofosauri che ce l'hanno con i Dodo. Esattamente. Orkodiaz. Maledetto uccellaccio. Maledetto uccellaccio. Madonna, che cecchino che sono. Madonna, che cecchino. Quello è il sacco di succo. Ok. E la tartarughe. Ma. Bellina però sta zona. Ok. Ok, ok, ok. Quindi, vado a continuare l'esplorazione di là, visto che la zona è abbastanza tranquilla. Però mi dispiacerebbe perdere... Quanta pelle ho raccimolato. Eh, abbastanza. Però vabbè, vediamo com'è la situazione in acqua. Una tartaruga che nuota felice. Non vedo squali. Quindi. Maledetto avversario. Che saltino. Fuori dall'acqua. Vabbè. Molto ok in questa zona, comunque. Un po' impervia, eh. Però. Riuscissi a saltare sopra le robe, poi. No, quello lì è quello che mi ruba le robe. Dio, sarò infimo. Però mi piace sta zona, mi piace. Ma se lo picchio dall'altro. Secondo voi. Ce la fa salire le rocce. Ce l'ho mai vista. Cosa volevi fare, scusami? Sono più in alto di te. È over, Anakin! Ho il high ground! Stupido. Oh! E' pucci! Quanti pucci pucci che ci sono qua. Quanti dodo l'ha! Oh! Ho bisogno di pelle. Mi sa tanto che i dodo... Adesso... Hanno una brutta fine. ciao dodo, lo so che eravate in pace, non c'è pace per voi, dove scappi? poveri dodo ho sentito un rumore strano, non ho capito cosa fosse vabbè andiamo con la lancia spianata perché qua la zona è tutt'altro che tranquilla qua sembra quasi una scalinata, vediamo se riesco a farla oh, sono fortissimo cacchia dodo però bella sta zona, mi piace l'avrei potuto far qua la casa forse oh, un altro dodo poveretti mi sto usando per esercitarmi con l'arco e tante tartarughe una zona tranquilla questa al contrario dell'isola che ho scelto io vabbè, dettagli ma facciamo una cosa mi sembra intelligente vado a casa vedete non stacco con io che vado a casa e poi partiamo da qua e facciamo il e risaliamo il fiume mi sa che perdo mi hai detto raptor ah, invece no eccoci di nuovo qua sopravvistuti, sopravvistuti siamo qua tornati dopo che ho portato a casa la pelle scusatemi se ci ho messo un po' ma nel frattempo ho avuto un raccontore avvicinato grazie a tutti